benvenuti ragazzi nuove aperture di pokeshiny sempre i codici di stirpe per la gioia di qualcuno di qualcuno in particolare oggi vi porto l'apertura ovviamente farò più parti di ben 37 pacchetti di skyrage adesso vi faccio vedere i quattro artwork e apriremo i primi 9 quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bene avete scoperto che pokeshiny sa anche contare allora iniziamo voglio salvare i pacchetti assolutamente perché questi sono i miei primi pacchetti di skyrage non ho mai comprato questa espansione si ho già capito che ci vogliono le forbici infatti le ho qua già vicino a me perfetto prossimi pacchetti con le forbici benissimo abbiamo già capito allora ovviamente io il trick di skyrage non lo conosco quindi vado così allora sfera miracolosa sfera miracolosa beta machamp stantler reverse sunflora baried fossil nidoran snabul e grolight beh che dite troveremo qualche cristallino? io spero proprio di sì allora andiamo di forbici ok e questo è andato piatto misterioso energia retro maccargo bellissima starmiolo rovine antiche reverse delibird schermori bellissimo girafarig e gligar queste carte a me piacciono parecchio infatti avevo già intenzione di comprarlo da parecchio tempo questo set poi mi sono deciso solo adesso energia rimbalzo energia ciclone omastar bidril reverse utut slugma lapras ursaring ursaring e sensreal questo pacchetto non lo salvo perché sotto è demolito ci saranno altre occasioni per salvarlo ecco e si era aperto bene giustamente sembra anche ovvio cacciatore di deliquie allora cacciatore di deliquie starmi stilix rai ciolo rai ciolo bellissima rai ciolo bellissima rai ciolo è troppo figo piatto misterioso reverse cacciatore di deliquie gustali diglett rattata e swainub cristallino venite a me anzi vieni a me starmi costruttore di apricorn moltres slugma reverse kakuna paeneco girafarig grambul e utut vediamo questo dovrebbe essere l'ultimo artwork da salvare si così lascio stare le forbici che mi danno un po' fastidio aprire così i pacchetti mi danno un po' fastidio aprire così frammento cristallino io voglio una cristallino non un frammento cristallino piatto misterioso moltres teddy ursa reverse sun kern anche qua triplo non ci posso credere markro teddy ursa e yamma mancano tre pacchetti questo è al contrario persian piatto misterioso starmi forre tres reverse gligar voltorb jigglypuff dactrio e seal gold questi set vecchi comunque queste carte hanno il loro fascino non c'è niente da fare energia ciclone energia ciclone piatto misterioso aereo dactyl magnemite reverse voltorb ditto dactrio seal e ondor ultimo pacchetto di questa prima parte zona del mistero lago sotterraneo lago sotterraneo piloswine zona del mistero reverse dactrio abbra pikachu poliwirl e stereo benissimo ragazzi anche questa apertura finisce qui alla prossima ciao ciao ciao